Tra i 260 club internazionali è stata scelta Gela per ospitare il XX Congresso Internazionale del Lions Città Murate, svoltosi ieri al Teatro Eschilo di Gela. Un ottimo risultato perseguito e ottenuto anche grazie agli sforzi di Franco Butera, vicepresidente internazionale della Fondazione di Origini Gelesi. L'obiettivo era appunto di portare i soci Lions da tutto il mondo a Gela perché Gela è entrata a far parte della Fondazione Internazionale Città Murate Lions nel 2016-2017, l'anno in cui era presidente. Ci ho creduto fortemente, abbiamo partecipato a tutti i congressi che si sono svolte ogni anno e ci siamo quindi proposti per ospitare qui il nostro congresso. Ci siamo riusciti. Si tratta di un momento importante, non solo per discutere sui metodi di preservazione delle città murate, ma anche un'iniziativa interessante per il rilancio dell'immagine della città. La riscoperta del valore identitario di questi luoghi è fondamentale per innescare i processi di sviluppo turistico all'interno di questi mercati. Si tratta di fare un lavoro complesso, organizzato, in cui la governance del territorio è l'elemento principale per poter rivitalizzare questi attrattori turistici. All'evento hanno partecipato i soci provenienti da San Marino, Malta, Francia ed Emirati Arabi. Quest'anno il convegno ha affrontato molti argomenti riguardanti l'archeologia, la storia e l'economia politica attraverso interventi di vari esperti del settore. Queste mura che abbiamo ripreso come scavo e come studio oltre dieci anni fa, abbiamo capito tante cose differenti rispetto a quelle che erano state dette, cioè le mura nacquero da un progetto unitario, ora meritano di essere proprio valorizzate e presentate attraverso anche nuove documentazioni con apparati didattici che purtroppo io avevo messo nel 2010 e poi sono stati rimossi. Allora si dà, ove non si facesse questo nuovo pannello didattico, una visione distorta di quello che è stata la ricerca scientifica nella zona. Andrebbe valorizzata, prima che essere valorizzata deve essere conosciuta e poi bisogna lavorarci tanto, perché aspettiamo da 25 anni ormai di vedere Porta Marina, è ancora nascosta. L'unica porta medievale in tutta l'Italia meridionale, insieme a quella di Capua. Grazie all'apertura straordinaria del 25 aprile, i soci Lions, provenienti dall'estero e non solo, hanno potuto visitare le mura timoleontè di Capo Soprano e il Parco delle Rimembranze. Un evento che mette Gela, accende l'attenzione a livello internazionale, noi siamo pronti per affrontare il futuro nel miglior modo possibile. I lavori stanno completando, altri progetti stanno mettendo in gambo per la promozione, dentro e fuori i siti culturali, per cui sicuramente Gela oggi dimostra che sta operando e che sta facendo passi avanti. L'evento è stato fortemente voluto anche dall'assessore in Cardona, che ieri ha portato i saluti dell'amministrazione. È un evento veramente dal respiro internazionale, ospitiamo oggi vari presidenti, anche da Dubai, e quindi Gela, protagonista, grazie ai Lions e alle mura federiciane timoleontè che la città ha e che ha presentato ai numerosi ospiti, oggi Gela veramente al centro del lionismo internazionale.